Un tormentato dopo guerra, l'esodo Giuliano Dalmata nei cinegiornali, è il titolo del documentario proiettato al Cinema Massimo di Torino in occasione del giorno del ricordo, il 10 febbraio. La serata, promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione, ha approfondito le vicende dell'esodo Giuliano Dalmata e del confine orientale d'Italia, una pagina della storia italiana inserita nel tormentato dopo guerra europeo.